Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Ben trovati al meteo. Anticiclone in rimonta, ci attende un weekend con il bel tempo e un clima tutto sommatomite. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 4 marzo. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento, cielo da poco nuvoloso a sereno. Occasionalmente, durante le ore più fredde della giornata, non si esclude qualche parziale riduzione della visibilità, specie sulla bassa pianura. Temperature in aumento, minime comprese tra 1 e 3 gradi, massime invece oscillanti tra i 12 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui sarà soleggiato e il cielo si presenterà sereno o velato sulla costa 20 di Brezza. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime tra i 12 e i 14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede un cielo soleggiato, solo con qualche velatura innocua. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 16 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. E' Grazie.